Quale sarà l'impatto del PNRR sulla regione Puglia, sulle nostre regioni ma in particolare sulla Puglia? Se ne è discusso ieri a Molfetta in coda al vertice di Cernobbio. La montagna di denaro del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza per rilanciare la fase post-pandemia e permettere lo sviluppo verde e digitale del paese avrà un impatto importante sul sud e sulla Puglia. A detti ai lavori convinti, il problema adesso è come queste risorse che fanno parte del programma europeo Next Generation saranno distribuite, come spenderle e cosa fare prima che scadano i tempi, entro cioè il 2026. Nella sede di Expria di Molfetta, hub regionale in collegamento con i lavori del forum Ambrosetti di Cernobbio in una tavola rotonda moderata dal direttore del TG Norbenzo Magistà, si confrontano mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico. Arriveranno questo 40% di 209 miliardi, una quantità enorme di risorse e meno di quello che volevamo noi ma in ogni caso è una quantità enorme di risorse che dovremmo utilizzare nel miglior modo possibile con la buona politica, siamo tutti quanti nella stessa barca, dobbiamo remare nella stessa direzione per utilizzare al meglio questi fondi. Alla Regione, rappresentata dall'assessore allo sviluppo economico Alessandro Dell'Inoci che ha parlato di risultati in tempi brevissimi, si chiede di rapportarsi con gli enti locali recitare il ruolo di catalizzatrice di interessi del pubblico e del privato importanti i progetti, così come la formazione da parte del mondo universitario l'idea è ridurre i tempi per guardare con più fiducia al futuro. Siamo estremamente preoccupati perché c'è bisogno di avere dei progetti e poi dopo di realizzare le opere in questo breve periodo io mi auguro che grazie a questi incentivi, a queste risorse il Sud possa risollevarsi e ci possano essere a livello nazionale i livelli essenziali delle prestazioni che possono essere uguali dappertutto.